Flaconi per detersivi, vaschette in polistirolo, imballaggi vari, specchi e lampadine. Ma come si riciclano i rifiuti? A pensarci bene, non è sempre intuibile dove e come conferire un oggetto. Per questo ASET SPA ha avviato una campagna di comunicazione finalizzata a sciogliere ogni dubbio mediante una semplice ma efficace brochure che verrà distribuita durante le manifestazioni e che spiega come comportarsi anche con gli oggetti più ambigui. Le indicazioni sono semplici ma numerose. La nuova brochure fa chiarezza punto per punto. Altrettanto importante è l'applicazione dedicata, scaricata già da tantissimi utenti e che fa luce sul corretto conferimento anche attraverso il codice a barre. Oltre alla differenziazione adesso dobbiamo cercare la qualità nella differenziazione. Quindi lo sforzo che facciamo è enorme perché inizia da oggi però verrà fatto in ogni sede, anche nelle scuole specialmente, dove ci sono delle agglomerazioni, unione di persone, incontri e quant'altro. Ci teniamo molto perché è l'occasione per cambiare un po' registo da questo punto di vista perché durante il Covid si è un po' allentata la morsa sia per le abitudini di non riciclare perché la norma prevedeva quello e quant'altro, sia perché sono sorte tutta una serie di nuove problematiche inerenti a dei prodotti che prima non esistevano e esistevano solo in minoranza. Quindi proprio per quello abbiamo notato che i sacchetti delle differenziate sono sempre più gonfi quindi non è possibile perché dovrebbero essere comunque dalle stesse dimensioni del periodo pre-Covid. Vuol dire che c'è qualche problema nella differenziazione. Noi vogliamo cercare di porre un rimedio. Poi una rinfrescatina su tutti i materiali che serve a me per primo, ma penso un po' tutti perché non è semplice districarsi tra le varie tipologie di rifiuti. Già dai mesi scorsi la società dei servizi ha fornito allestaggio in concessione, isole ecologiche e appositi punti di conferimento per carta, vetro, plastica e imballaggi metallici. Negli stabilimenti balneari è presente anche un cartello che spiega sia in italiano che in inglese cosa conferire nei rispettivi bidoni e cosa no. Raccolta differenziata anche per i campeggi dove sono state affisse delle apposite locandine. Importante perché siamo sicuramente una città virtuosa, raggiungiamo il 75% ed è già un grande risultato. Però vogliamo mantenerlo e migliorarlo sicuramente. Questo dato perché alla luce di quello che è stato un po' il periodo della pandemia ha condizionato alcuni comportamenti che poi ricadono inevitabilmente su quello che è un costo per l'ambiente ma anche per tutti i cittadini perché meno differenziamo e più sono i costi di smaltimento dei rifiuti. Pertanto questa campagna che riguarderà un po' tutta la città ma daremo del materiale sicuramente sulle spiagge, metteremo a disposizione spiagge che voglio sottolineare il fatto che sono state anche agevolate per quanto riguarda la raccolta perché è partito un servizio raddoppiato per alcune tipologie di rifiuti quali la carta ed il vetro ed è un servizio che viene esteso da partire da aprile fino ad ottobre per cui riusciremo ad essere anche più tempestivi da questo punto di vista. E non solo, anche sui quartieri c'è un intervento raddoppiato quindi passeremo ogni due volte a settimana. Questo significa che noi vogliamo veramente vivere in un ambiente sano e pulito.